per modo di dire la memoria è una strana cosa tutta a sé ne passano attraverso come neve o polvere parole avvenimenti persone parole che danno una superficie alla memoria nel presente o parole nel ricordo tracce di scrittori passati avvenimenti che modificano le tortuose reminiscenze della gente della memoria la mia gente io sono la memoria di una specie di artigiano romanziere la biografia che io continuo incessantemente a scrivere è sempre la stessa e la si può immaginare come le pagine ritagliate o strappate di un libro di me essenziale memoria apocrifa alla memoria di nimand 30 febbraio 1918 31 marzo 1989 è qui che la tua storia comincia sono seduta in questa cattedrale immensa zelida grigia e luminosa sotto il tetto secondo i miei calcoli ci dovrebbero essere degli uccelli che svolazzano scendono in picchiata dall'alto delle torri campanarie ma non ce ne sono i suoni lontani della città invernale sono attutiti venne da pensare a un greggio di pecore sperdute che vagano su tratturi anneriti in mezzo a scogliere con il colore della tristezza un animale si sente solo in una città dove non ci sono uccelli le luci là fuori sono smorzate eppure i contorni degli oggetti risultano vividamente un po' allo stesso modo voglio mettere in risalto per te alcune esperienze e alcune persone so che evocare ricordi è un modo di immaginare il mondo e che paradossalmente l'aspirazione alla chiarezza estende le zone di incertezza e di dispersione come la nebbia che ingoia il vuoto e sottolinea pesantemente le ombre anche adesso non sono una scrittrice sono una giornalista a tempo perso ma da quando ho deciso di descrivere per te gli avvenimenti mi sono resa conto che porto un libro dentro di me e che non potrò avere pace finché non lo darò alla luce così mi sono fatta cronista del tempo perduto e ho dato forma al tuo passato capitolo per capitolo Barnum qualche volta tuo padre lo definiva scherzosamente il suo frater ego è stato tanto gentile da incoraggiarmi quando avevo finito di imbrattare una pila di fogli mi sottoponevo a lui che poi leggeva quanto avevo scritto e faceva qualche commento tecnico mi ha dato indicazioni su cose che non avrei potuto sapere ha detto che dovrei cercare di essere obiettiva che i sentimenti e le opinioni personali messi per iscritto non rappresentano ancora un mondo letterario il quale per definizione nel caso sopravviva dovrebbe avere una vita sua e che di conseguenza avrei dovuto tentare di proiettarmi nella terza persona singolare anche più importante ha detto è scrivere di fatti a cui non avrei potuto assistere farlo darà respiro al libro ed anche una strada per il paradiso tanto più che questo respiro è a suo modo di vedere il solo appiglio che può contribuire a trasformare il dolore in piacere la scrittura deve essere metamorfosi perché ti scrivo da questo luogo come potrai saperlo solo è stato là fuori sui gradini oltre quella porta che ho annunciato la tua esistenza all'assente per la prima e unica volta il freddo era cominciato l'autunno aveva spogliato le viuzze delle loro foglie e la piazza era vuota non mi ricordo che in Africa gli alberi diventino così nudi il cielo era basso e anche quel giorno le strade avevano una patina lucente di umidità la luce era come un fuoco che brucia lentamente che contrasto sapevo di avere un'altra vita dentro di me tu avevi un mese non riuscivo a dissimulare il tremito delle labbra ho parlato con lui l'assente di te e la sua espressione era fissa le iridi intorno alle pupille sono diventate più scure come facevano a volte quando era turbato dalla paura o dalla rabbia o dalla nostalgia ma si sono addolcite quando mi ha preso fra le braccia per darmi conforto o forse l'ha fatto per non dovermi guardare negli occhi contro la sua spalla non ho potuto fare a meno di sussurrargli per piacere non dirmi di no volevo così tanto che fosse orgoglioso felice entusiasta forse lo era forse semplicemente non riusciva a darlo a vedere ma ti farà bene di certo mio piccolo merlo so che ha bisogno di te anche più di quanto non ne abbia io mi ha tenuto stretta a lungo quali immagini galoppavano nella sua mente di quali spaccature di quali sommovimenti aveva paura nel sottosuolo della sua angoscia vedi eravamo separati a causa di uno sciocco litigio doveva partire il giorno dopo per l'orrendo paese della sua mente andare nella geografia dell'assenza come diceva lui stesso è stato ingiusto da parte mia parlargli di te il giorno prima della sua partenza è stato un disperato tentativo di trattenerlo volevo dargli una speranza a cui attaccarsi o una corda per impiccarsi una ragione per credere una motivazione per ritornare da noi non ci rimane null'altro che la speranza mi ha messo un braccio intorno alle spalle e mi ha portato dentro la cattedrale lungo la navata centrale fino all'abside dove si trova l'altar maggiore su un lato c'è sempre un libro aperto perché la gente sola possa venire a scribacchiare il proprio messaggio chiedendo un intervento misericordioso per un genitore moribondo un bambino con una tosse ostinata un'operazione la fame un'indefinita infelicità la solitudine sei sicura? mi ha chiesto sì ero certa il medico lo aveva confermato proprio quel mattino circa un mese so già che c'è povero bambino ha sospirato perché? come perché? deve essere? venuto in teatro ha sorriso non è quello che si dice un inizio promettente nella vita sai suo padre è un pagliaccio un attore da strapazzo un emarginato senza patria e senza lavoro uno schifter e per di più concepito dietro le quinte fra un atto e l'altro gli ho ricordato che A era stato in un palco ed era stato bellissimo e anche che era A avvenuto durante una prova non un vero spettacolo ma lui ha detto che serve solo a dimostrare di quale magia è capace anche una brutta commedia là al margine di quel mare di candele votive dove l'oscurità tende al suo agguato mi ha baciato non qui ho protestato ha messo una mano contro il mio ventre e con le labbra fra i miei capelli ha detto che non percepiva nessun movimento che non sentiva niente stupido allora ha detto dovresti essere a letto adesso e io ho riso torniamo in Africa ha sussurrato non restiamo in questa terra di gente egoista e superficiale ed era come se un corvo avesse inghiottito tutta la sua voce gli ha messo un dito sulle labbra sai che non è possibile Africa quale Africa la tua o la mia abbiamo continuato a camminare passando davanti a tutti quei neri dipinti di sofferenza e di tortura alla gelida Madonna dal volto dall'abastro rinchiusa dietro le sbarre come in una cella alla raffigurazione della caduta dell'uomo in cascate di pietra i nostri passi risuonavano sulle grandi lastre tombali sotto le quali stanno sepolti i vescovi e i ricchi donatori sai che devo andare ha detto sì lo sapevo ma ti giuro che tornerò e anche prima del previsto vai e fai quello che è necessario ma stai attento e te ne prego torna da noi sano e salvo ho detto per confortarlo già era sul punto di andare come sempre in fuga i secondi scorrevano lenti vicino a questa cappella ci siamo affermati ha indicato la figura di un uomo apparentemente appeso a una croce sul muro è il più bello che conosca ha detto guarda il suo corpo come è pieno di grazie e al tempo stesso di umiltà così liscio senza traccia di sangue non riesco a capire se è marmo o qualche altra pietra lo scheletro del volo non ti pare che risplenda labbra e occhi chiusi la testa calma appena inclinata verso la spalla sinistra nessun contorcimento nessuna agonia non è un dio messo in croce è solo una splendida scultura guarda com'è levigata la sua superficie c'era dello sgomento nella sua voce è così lieve così privo di sforzo nella sua attenzione come un uccello sul punto di prendere il volo non è male non è male ti ricordi quella chiesa a montaggiù dove ci siamo conosciuti non ti ho mai detto che il giorno dopo ci sono ritornato e ho acceso una candela per te davanti alla madonna nera ridicolo no pensi che potrebbe avere l'effetto opposto perché non sono credente ho sorriso e gli ho passato una mano sul viso da giorni non si radeva e il mento e le guance erano ispidi mi sono ricordata di quando una volta aveva detto per scherzo che solo i bianchi hanno il tempo di farsi crescere la barba e che gli altri sono troppo impegnati a fare la rivoluzione lacrime caldissime mi premevano contro le palpebre non vedi che ha già funzionato ho chiesto che il miracolo ha già avuto luogo ma volevo che tu fossi felice qualsiasi cosa potesse accadere anche se proprio non ce la farai a pregare sarebbe un segrilegio assurdo sono felice sono felice ho ripetuto parecchie volte e volevo che rimanesse e poi che se ne andasse prima di vedermi piangere avevo paura che avrei finito per dargli la terribile notizia di suo padre pensi che sono matto no no naturalmente sarebbe strano che tu non avessi i nervi a fior di pelle prima di partire per quel posto starai attento penso che devo essere matto ha detto con un tono di derisione ma dato che non sono chi sono e se è per quello neanche chi sta dietro a tutto questo faremo finta che non si tratti di me va bene ha baciato rapidamente il neo nel palmo della mano il suo sole diceva sempre è sparito sono rimasta sedere a lungo alla fine ero scossa da brividi violenti anche se portavo addosso lo stesso cappotto che ho adesso l'ho fatto con le mie mani sai mia madre mi ha mostrato come si fa a tagliare la stoffa secondo il modello e a cucire le varie parti quando era ancora piccola è una delle poche cose che si è data la pena di insegnarmi un giorno passerò anche a te questa conoscenza anche se sei maschio ma sono sicura che tuo padre preferirebbe che tu fossi una bambina vedi ho già cominciato a parlare con te qualcuno ti deve dire chi sei presto sentirò i tuoi movimenti nel mio corpo sarai ancora piccolo e raggrinzito mi ha detto il medico poco più grande di un pene marrone o non so neanche se sei una femmina o un maschio come si sta quando sei così piccoli come devi lavorare a sodo per costruirti le mani i piedi il sesso tu sei un serpente un pesce con le branchie gli occhi gonfi durante questi pochi mesi percorrerai il tuo cammino attraverso milioni di anni di evoluzione finché sarai un uccello farei sempre parte del mare preferisco pensare a te in questo modo piuttosto che concentrarmi sul concetto uomo o vita non voglio scrivere a un'idea astratta le campagne li intoccano tremolanti quarti d'ora amplificati dalla grigia acustica di questo luogo riesci a sentirle anche tu sento il riecheggiare del suono che attraversa il mio corpo forse è quella sorta di mari di suoni entro cui tu ora vivi un sacco ricolmo di ondate legate al battito del mio cuore sarò il tuo mare ci fossero stati degli uccelli appollaiati all'interno delle celle campanarie sarebbero già stati dispersi da queste vibrazioni di paura non mi pare che a parigi ci siano tanti uccelli sulla collinetta del giardin del luxemburg ci sono dei passeri e dei merli e anche già da qualche anno alcuni corvi i corvi sono i cattivi pensieri che salgono in superficie dalla nostra storia sotterranea ma io chiudo la mia mente ai brutti ricordi tu sarai quel delfino che tuo padre e io abbiamo sognato e sarai bellissimo i piccioni non sono uccelli dice sempre tuo padre sono ratti con le ali ma naturalmente io so perché sono qui superstizione tre giorni dopo la partenza di tuo padre ho ricevuto per posta uno di quei pacchetti giallognoli preconfezionati con il nome del mittente illeggibile avrei dovuto sapere che era suo ma non è mai stato molto bravo affasciare a legare la roba era decisamente troppo grande per quello che conteneva un leone giocattolo marrone di una qualche sostanza morbida e pelosa con un'orecchia smangiata vedi ho qui con me nella scatola c'è un biglietto che diceva questo è per il piccolo mago proteggerà il nostro sogno scaccerà gli spiriti maligni si chiama Fanuel e va a caccia di topi e di corvi qui non preoccuparti se la notte scappa fuori amore da quel giorno il leone vive nella mia borsa e perciò lo avevo con me quando sono andata all'appuntamento con Walser dall'altra parte della piazza al café de Saint-Siennes al Flick non so come Walser sia venuto a sapere il mio numero lo avevo visto una sola volta prima in compagnia di Manu tuo padre era stato in un altro caffè nel quartiere cinese ora se ne stava seduto rivolto alla porta con la schiena contro il muro quando sono arrivata stava sorseggiando il suo thé attraverso un volto paio di baffi i suoi occhi erano coperti da un paio di occhiali scuri con le lenti spesse sapevo già dei suoi problemi di vista sebbene Manu non fosse poi così sicuro e pensasse che la sua cecità avesse un che di misterioso sul tavolo c'era il giornale della sera piegato a una piccola pila di monete aveva già pagato il conto quando si è reso conto della mia presenza ha fatto il gesto di guardare l'orologio mi sono scusata per i miei pochi minuti di ritardo aveva già pagato il conto quando si è reso conto della mia presenza ha fatto il gesto di guardare l'orologio mi sono scusata per i miei minuti di ritardo ma ha agitato una mano come a dire che non era niente ha sorriso asciugandosi quella specie di ala che ha sotto il naso mi ha spiegato che non dovevo farci caso che era una vecchia abitudine della clandestinità quella di essere così rigidamente puntuali è per questo che non manchiamo mai all'appuntamento con i nostri assassini come anche quella di pagare subito la consumazione in modo da poter andare via rapidamente senza dare nell'occhio nel caso ce ne fosse stato bisogno sono come dei boy scout questa gente ho pensato che per lui fosse una sorta di gioco l'aver fissato un appuntamento in un posto come quello un ritrovo di vecchi piagnucoloni affetti da mal d'Africa e di altri reazionari che perché sapevo da mano che Walser era stato coinvolto in azioni sovversive in diversi paesi africani eppure sembrava a suo agio anche se i suoi occhi non cessavano di percorrere su e giù il locale ecco l'impressione che mi faceva una testa canuta che ruotava lentamente da sinistra a destra quanto effettivamente riusciva a cogliere delle ombre che sconfinavano sulla sua retina usava i suoi occhi come organi in grado di captare le vibrazioni ha ordinato una birra per me e automaticamente ha pagato il cameriere nonostante le mie proteste ora cerchi di stare calma ha detto di